3 e 9, siamo a quota 5, altre 5, per il quinto premio il numero? 0, 1, 2, 0, 6 0, 1, 2, 0, 6, per il quinto premio 0, 1, 2, 0, 6 Dite i numeri chiavi, li peschiamo finisce la stanza, se no devo fare, scus, Marta pesca il numero mio, 0, 4, 9, 4, 7 0, 4, 9, 4, 7? Dite il numero, ci giochiamo, facciamo uno ciascuno, allora siamo arrivati a... Il terzo premio, il terzo post, il terzo premio Scusate, scusate un attimo, signora dammi il biglietto, signora, signora dammi la tua Su schifo alla fine del conto, io sto pescando i numeri, non è che... Marta pesca l'altro, già Voglio capire i premi cosa sono, allora, primo premio, primo post, primo premio, vacanza 7 giorni, per 4 persone Il terzo invece, con il terzo? Il terzo eh? Allora aspetta, una pespita, ah non è pespita 0, 0, 8, 6, 0 0, 0, 8, 6, 0 Che ha vinto un bel telefono cellulare Android, invece quello a 4 ha preso una pespita, cioè una persona digitale Secondo posto adesso Secondo, ha un tablet, il tavolo, signora, gli serve un tavolo? Sì, tu lo dici, mi piace la signora Aspetta, leggelo tu Signora, stai tornando il tuo 0, 0, 8, 7, 0 Allora, c'è, veramente Se vatten, vedi? 0, 0, 8, 7, 0 Per il secondo posto Cosa c'è per il secondo posto? Un tavolo digitale, un tablet E finalmente, primo post, giriamo bene C'è la vacanza per 4 persone Cioè, scusi, digli a quel che vince il primo Ehi, signora, venga a lei proprio direttamente Non... Non per dire Il primo, eh? Il primo, eh? Oh... 0, 0, 8, 6, 2 Ce l'avete? No 0, 0, 8, 6, 2 Vieni, vieni, vieni Ti rompi gli occhiali, eh? Vatten, vieni, vieni C'è, sì o no? Ci faccia vedere in via Pasqua Allora Tu devi cambiare spacciatore Cambia spacciatore Cambia spacciatore Non ti preoccupare Anche io ce l'ho ancora che lo faccio vedere Vatten 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 Non capisco, signora, giocare? Grazie a tutti Ringrazio la tua cazzole giornale Grazie a tu, François, ringrazio Signora, con ero a Casparnoce, ho qualche nicchio Si, abbiamo finito È finito Dici, prendi, dici, abbiamo E' segnito E' segnito A parte di scherzi E' stato un piacere Averti conosciuta Ciao oggi Ciao Ci vediamo l'anno prossimo Ci vediamo l'anno prossimo E speriamo che questo evento migliori sempre Soprattutto cresca E diventa una situazione per questo paese Buona serata a tutti e buonanotte Buonanotte a tutti, ciao 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 Ciao